io uno influencer ma state scherzando ma assolutamente non potete definirmi tale io sono semplicemente una libera pensatrice una opinionista diciamo così di valtellina che racconto quello che vedo quello che fotografo quello che visito parlo di aziende parlo di territorio parlo soprattutto di eventi e mi piace far conoscere quello che succede nella nostra bella valle ricevo anche gli insulti perché da quando mi sono messa a fare video comunque mettono delle cose un po provocatorie perché mi piacciono scatenare ogni tanto le discussioni mi hanno definito addirittura una tardona retrograda e io ringrazio sono felice di essere definita così perché me la sono guadagnata mi piace quest'idea perché comunque qualcosa sto facendo chi non si espone ovviamente non sbaglia mai io invece con il mio lavoro lo faccio mi piace sono sempre molto diretta schietta e sincera e mi piace ascoltare anche le opinioni degli altri anche le critiche l'importante che non si vada nelle offese ecco perché quelle allora non mi piacciono lì io sono accetto il confronto io dico la mia voi dite la vostra però senza offesa cioè mantenere tutto su livelli calmi quindi alle migliaia di persone che ogni giorno ci seguono dal sito dai social io dico se vi piace la mia faccia vi sono simpatica seguitemi altrimenti non siete obbligati a farlo non si può piacere a tutti la porta è sempre aperta o per entrare o per uscire buon weekend